Terra Amara, anticipazioni della puntata di domenica, 10 settembre. Amanti delle serie TV, preparatevi a vivere un episodio carico di tensione e colpi di scena. Ma prima di iniziare iscrivetevi al canale e mettete un bel like al video. Nel cuore di Villa Yaman, un vento di tempesta si abbatte quando Ilmas, con una forza travolgente, fa irruzione come un tornado. Con una morsa d'acciaio afferra Mushgan, trascinandola verso l'ombra di un segreto che a breve verrà svelato. Gli occhi di Zuleya, intrisi di paura e sorpresa, incontrano quelli di Ilmas, che le chiede una verità sconvolgente. E come un tuono in una notte buia, Mushgan rivela un segreto che potrebbe cambiare tutto. Non porta in grembo una nuova vita. Ma la tempesta non si placa. Fekeli, come un fulmine a ciel sereno, fa la sua comparsa e Demir, con la voce carica di sospetto, interroga Mushgan sul motivo di tale rivelazione. Ilmas, con tono glaciale, sottolinea che tutto ciò riguarda profondamente Zuleya e pone un ultimatum a Demir. Vuole Zuleya e il loro bimbo. Ma Demir, con la fermezza di un leone, difende ciò che è suo. La battaglia tra i due uomini sembra inevitabile e l'aria si carica di un'attesa palpabile. Nel frattempo una figura solitaria emerge dalla penombra. Fikret, con il cuore pesante e l'anima ferita dalle accuse di Ilmas, si prepara a lasciare tutto alle spalle preparando le valigie. Ma il destino ha altri piani. Proprio quando sta per abbandonare la dimora di Fekeli, Ilmas e Mushgan irrompono, portando con sé un vortice di emozioni. Ilmas, con rabbia e rimorso, affronta Mujgan, mentre Fikret, con il suo borsone pronto, viene intercettato da un pentito Ilmas. Ma è l'arrivo di Fekeli a cambiare le carte in tavola, ricordando a Fikret il legame indissolubile che li unisce. E come in ogni buon dramma, i cuori infranti cercano risposte. Fekeli, con occhi scrutatori, cerca la verità negli occhi di Mushgan. Perché mentire quando sapeva di avere un alleato in lui? Mushgan, con voce tremante, rivela la sua disperazione, spinta all'inganno dalla paura di perdere tutto, soprattutto il piccolo Kerem. Ma proprio quando sembra che le acque si siano calmate, Ilmas, in un gesto teatrale, lancia un fiume di banconote sul letto, segnando una decisione irreversibile. Mushgan e Beheiche devono abbandonare immediatamente la casa. Nel cuore verde del giardino di casa Yaman, Shermin e Fusun si perdono in un vortice di confidenze, rievocando le immagini vivide di ciò che i loro occhi hanno catturato e le azioni audaci di Mushgan. Mentre le foglie sussurrano segreti, all'interno della villa, l'aria è tesa. Demir, con uno sguardo penetrante, interroga Zuleyha, cercando di comprendere le ragioni che hanno spinto Ilmas a portare Mushgan a confessare davanti a loro la finta gravidanza. «Perché dovremmo preoccuparci delle sue condizioni?» chiede con voce vibrante. Zuleyha, con occhi velati di mistero, ammette di non avere le risposte. Ma Demir, come un falco che non lascia la sua preda, insiste, accusando Zuleyha di aver alimentato il fuoco dell'audacia di Ilmas. E mentre il silenzio avvolge Zuleyha, Demir le sussurra con voce rotta quanto profondo sia il suo amore per lei. Nel calar del crepuscolo, Ilmas, con decisione ferrea, impartisce ordini al suo dipendente. Mushgan deve essere portata lontano, nella dimora di Istanbul di Fekeli, ma come un guerriero saggio, Fekeli suggerisce un approccio diverso, proponendo di allontanare solo Behice, nella speranza che l'assenza della zia possa offrire a Mushgan uno spazio di riflessione. Tuttavia, la determinazione di Ilmas è inamovibile. Mushgan, con il cuore in tumulto, cerca disperatamente traccia del suo bambino, ma quando affronta Ilmas, le sue speranze vengono infrante. Con un gesto brusco, la costringe a salire in macchina, destinazione Istanbul. Behice, con voce tremante, implora a Fekeli di intervenire, ma lui, con uno sguardo calmo, assicura che agirà quando il momento sarà propizio. Mentre la polvere si alza sulla strada, percorsa da Mushgan e Behice, Ilmas confida a Fekeli il suo disprezzo per Mushgan. Ma Fekeli, con saggezza, gli ricorda l'importanza del legame materno. Nel cuore della notte, Mushgan, accompagnata da Beige e due ombre silenziose, è un fiume di disperazione, maledicendo Ilmas. Ma Behice, come un faro nella tempesta, le assicura che Fekeli sarà la loro ancora di salvezza. E come previsto, Fekeli emerge dall'oscurità, fermando la loro corsa e offrendo loro rifugio nella sua auto. Mushgan, con lacrime di gratitudine, si getta tra le braccia di Fekeli, ringraziandolo per il suo intervento tempestivo. In un'atmosfera densa di segreti e sussurri, Ilmas si confida con Nazire, Nazire, rivelando il suo audace piano di fuggire con Zuleia e iniziare una nuova avventura, portando con sé tutti e tre i piccoli tesori. Nazire, con occhi scrutatori, interroga Ilmas sulla sorte di Mushgan e del suo bambino. Ilmas, con un tono gelido, afferma che, dopo le azioni di Mushgan, ogni briciolo di rispetto per lei è svanito come neve al sole. Nazire, con saggezza, gli ricorda l'indissolubile legame tra una madre e i suoi figli. Ma Ilmas, con fermezza, assicura che farà di tutto per garantire un futuro sereno al suo bambino, al riparo dalle ombre del passato. Nel cuore della notte, Fekeli offre rifugio a Mushgan e Beyice, in una delle sue dimore segrete, un luogo dove il tempo sembra fermarsi, lontano dagli occhi indiscreti. Mushgan, con il cuore in tumulto, implora a Fekeli di intercedere per lei presso Ilmas. Fekeli, con voce calma e rassicurante, le suggerisce di trovare la pazienza nel suo cuore e di riflettere sulle sue scelte. Nel frattempo, tra le fredde mura dell'ospedale, Fusune e Shermin svelano al dottor Haikute e ad un gruppo di infermiere l'inganno di Mushgan. E come un colpo di teatro, una delle infermiere svela un segreto ancora più scottante. Ha visto Fikret e Mushgan in un tenero abbraccio. Ma quando Fekeli e Fikret fanno la loro comparsa, l'atmosfera si carica di tensione. Fikret, con occhi fiammeggianti, identifica l'infermiera chiacchierona. Fekeli, con tono severo, la rimprovera per aver diffuso voci infondate e le chiede di pentirsi. Ma Fikret, con orgoglio ferito, rifiuta le sue scuse. Beyice, nel tentativo di proteggere Mushgan, le rivela di aver ottenuto per lei un periodo di riposo dal dottore e le racconta della tempesta di voci e dell'eroico intervento di Fekeli per placare gli animi. Tuttavia, Beyice, con tono materno, la rimprovera per la sua menzogna, esortandola a cercare sempre il suo consiglio. E mentre la luna illumina il cielo stellato, Demir, con il cuore in subbuglio, torna a casa, ma la sua amata Zuleya è come svanita nel nulla. La luce tremolante nella villetta di Ilmas attira la sua attenzione e, con passo deciso, irrompe all'interno, solo per trovare Cetin e Gulten. Lontano da occhi indiscreti, nel cuore di un bosco avvolto nel mistero, Ilmas e Zuleya si confrontano. Lui le promette un futuro insieme, ma Zuleya, con voce dolce ma ferma, gli ricorda l'importanza del legame materno. Ilmas, però, rimane irremovibile nella sua convinzione e la sfida a decidere il loro destino. Mentre le stelle brillano nel firmamento, Demir, con l'anima in tumulto, attende con ansia il ritorno di Zuleya. Quando finalmente la sua siluetta appare alla porta, il suo cuore salta un battito. Zuleya, con occhi lucidi, gli rivela di aver avuto un incontro clandestino con Ilmas e di non poter più reprimere le emozioni che ribollono nel suo cuore. Demir, con voce tremante, le confessa che, nonostante tutto, il suo amore per lei rimane inalterato, una fiamma che non può essere spenta. Nella dimora di Ilmas, l'atmosfera è carica di tensione. Fekeli, con la saggezza di chi ha visto e vissuto molto, affronta Ilmas, suggerendogli di considerare il divorzio da Mushgan, pensando al futuro luminoso del loro bambino. Ma Ilmas, con la determinazione di un guerriero, ribatte che Mushgan non avrà più il privilegio di vedere il loro bambino. La notte avvolge la città in un velo di malinconia. Fekeli, in particolare, è come un naufrago in un mare di ricordi. Si ritrova sotto al balcone di un'antica carrozza, perso nei pensieri. Con l'arrivo dell'alba, Fekeli si dirige verso la residenza del signor Turan, un collezionista d'arte. Lì, Gilly viene mostrato un quadro che cattura immediatamente la sua attenzione. Con occhi lucidi, Fekeli si ritrova di fronte a un ritratto di Unkar, un volto che evoca ricordi lontani. Con reverenza lo porta nella sua stanza e davanti all'immagine pronuncia parole cariche di affetto e nostalgia. Si concludono queste anticipazioni di Terra Amara per domenica 10 settembre. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, attivate la campanella e mettete un bel like al video.